Sono dei mostri sacri che sono passati prima di noi e hanno fatto tutto quello che si poteva fare e ormai resta poco e quindi bisognava andare nell'Artico qualcosa ho fatto anche qua però ormai chiaramente lì cambia tutto nel senso che diventa vera avventura, non c'è più soccorso una volta si andava in Himalaya, adesso per me l'Himalaya è un circo non vale più la pena e è sbagliato ascoltare gli alpinisti che dicono fare gli 8000 significa essere dei super uomini perché gli 8000 adesso, parlavamo di un 8000 fatto insieme nel 92 da Mario, nel 96, nel 93 da Mario, nel 96 da me ho visto le immagini l'anno scorso, due anni fa al campo base è più di 1000 persone in ogni campo dove io ho le foto, ci sono sul mio libro una tendina la nostra, la pista è battuta da noi e adesso 30 tende piene di gente, di portatori di scerpa, di bombole di ossigeno parliamo ancora di bombole di ossigeno nel 2013, sugli 8000 una demenza, l'anno scorso io mi sono rinteressato a questa montagna perché l'anno scorso è stata una valanga al campo 2 a 6400 metri che ha ucciso 11 persone Luca Campagna di Vallarsa un alpinista che ha cominciato ad andare in montagna sin da giovane e possiamo dire con la SAT di Vallarsa dato che è tra i fondatori raccontaci un po' brevemente il tuo percorso sì, allora sono stato tirato dentro nella, tra virgolette, nella SAT di Vallarsa ancora giovanissimo, avevo 13-14 anni e all'inizio come per scherzo c'era bisogno di qualche supporto giovane per la nascita della sezione io facevo tutt'altro mi dedicavo all'agonismo nell'atletica leggera e quello fu però un colpo di fulmine perché da allora per 35 anni non ho più smesso di andare in montagna ho iniziato con le classiche gite delle sezioni SAT Vallarsa e Rovereto mi ricordo che ogni anno d'estate aspettavo con entusiasmo l'elenco delle gite future da realizzare e poi un po' alla volta, frequentando l'ambiente alpinistico roveretano mi sono un po' distaccato dalla sezione SAT che fa un certo tipo di attività e ho iniziato la mia attività alpinistica vera e propria che mi ha portato in tutto il mondo praticamente dall'Artico, all'Himalaya, dal Sud America a tante Dolomiti, all'Africa però io sono ancora qui che rampico ancora anche in Vallarsa la tua esperienza di alpinista ti ha portato partendo, sei partito seguendo appunto i grandi alpinisti roveretani e lintorni e sei arrivato ad un alpinismo per certi versi estremo nell'incontro qui al festival hai raccontato di questo alpinismo che hai cercato in un periodo e che adesso è più difficile da trovare Sì, allora, frequentando l'ambiente alpinistico di roveretto mi sono trovato subito a contatto con dei personaggi di livello internazionale sia nelle varie branche dell'alpinismo sia nella rampicata prettamente più su roccia sia poi per gli alpinisti che si dedicavano a spedizioni internazionali quindi salite in alta quota frequentando questi alpinisti ho cercato di seguirne le orme e mi è venuto spontaneo però in maniera molto lenta con gli anni un po' alla volta migliorare sempre di più e cercare sbocchi verso difficoltà e impegni sempre maggiori sono così arrivato ai grandi 8000 imalaiani sempre saliti senza ossigeno e senza portatori d'alta quota e contemporaneamente ho portato avanti anche la rampicata su vie nuove in roccia anche all'estero, quindi in Artico, in Patagonia è un'attività naturale che viene naturale frequentando un ambiente che fa quelle cose lì che dire di altro poi con gli anni ho visto un mutare anche dell'alpinismo un mutare del valore delle cose in alpinismo perché non tanto solo nell'etica prettamente sportiva frequentando ambienti lontani dall'Asia all'Africa al Sud America si incontra per forza di cose anche le popolazioni locali e allora relativizzi un pochino la tua attività ti sgonfi un pochino come agonista e cerchi di stare più attento a tutto quello che c'è intorno e quindi a tutto l'ambiente montagna inteso in maniera globale ecco che col tempo sono anche rientrato nella mia valle con questo background e con la voglia di frequentare la montagna anche come montanaro e non solo come alpinista Tu appunto hai cominciato come aiutante e poi compagno di questi grandi alpinisti ora che hai raggiunto l'età adulta cosa diresti a un giovane che si trova ad affrontare queste attività? Forse allora era tutto un po' più semplice la strada era tracciata e c'era ancora molto da fare e era molto chiaro quello che c'era da fare era un'eredità che veniva passata da questi grandi che allora avevano anche 40, 45, 50, 60, 70 anni e ti dicevano guarda c'è ancora da fare questo era molto logico, molto evidente l'alpinismo è un po' degenerato col tempo si sono saturate le possibilità se qualcuno vuole aprire vie nuove al giorno d'oggi deve fare delle cose il rischio c'è sempre stato ma al giorno d'oggi non si può arrampicare sugli specchi quindi c'è un limite fisico proprio e a quel punto che cosa si fa? io dico che sono i giovani loro stessi che devono reinventarselo non possiamo essere noi a dire cosa devono fare e come lo devono fare forse hanno davanti una via molto più difficile di quella che avevamo noi proprio nel capire cosa è giusto fare in alpinismo senza andare a falsare proprio la stessa salita a una montagna o a una grande parete se è forzata secondo me non ha più senso quindi sta a loro o fare un passo indietro o inventarsi un nuovo gioco tante esperienze tante montagne un cambiamento che ci hai raccontato sono cambiati gli uomini? sono cambiate anche le montagne? sia quelle del mondo sia quelle della Vallarse? tante montagne sono cambiate nel senso che sono più frequentate e ci sono più persone che ci vanno sono cambiate le tecniche di approccio alla montagna e quindi si sono un po' ridimensionate nella difficoltà montagne che fino a 20-30 anni fa o pareti che fino a 20-30 anni fa sembravano impossibili ora sono più abbordabili anche per un giovane il problema è per fare qualcosa di nuovo occorre sempre puntare alla difficoltà estrema o si può pensare a un alpinismo diverso magari più umano più attento a certi aspetti prima si parlava con Mario ad esempio arrivare ad un 8000 ha senso arrivare scendere dall'elicottero salire tornarsene a casa e dire l'ho fatto segnarlo sulla carta comunque con una crocetta o sarebbe meglio ricominciare a riscoprire cosa c'è sotto la montagna qual è la realtà che c'è sotto non ha senso per un occidentale arrivare su una montagna scalarla con le proprie capacità tecnologiche anche quando sotto il paese con le persone che vivono sotto muoiono di fame secondo me questo non ha senso per questo che va un po' ripensato un certo modo di andare in montagna che attualmente invece sta andando in tutt'altra direzione bene grazie mille a Luca Campagna grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.